Io mi batto perché la competenza sulla laguna sia squisitamente veneziana. Torniamo ai tempi della Serenissima, no? La Repubblica Veneta gestiva la sua laguna. E chi c'è che ha più, come si può dire, il senso del buon padre di famiglia se non il sindaco, all'amministrazione comunale, che è lì, la vede la laguna, la vive? L'asse Palazzo Balbi-Cafarsetti è stato rinsaldato dalle urne ed è coinciso con una forte affermazione personale per entrambi. Luca Zaia da un lato, Luigi Brugnaro dall'altro, con quest'ultimo deciso a rivendicare un ruolo preeminente nell'Agenzia per la Laguna, istituita a ferragosto dal Governo centrale con lo scopo di assorbire le competenze del Magistrato delle Acque e gestire quindi anche la partita del Mose, il tutto controllato principalmente dai Ministeri di Infrastrutture e Ambiente. Una questione strategica per la salvaguardia e lo sviluppo della città, che per Brugnaro non può prescindere dal Comune. Questo nuovo fronte di battaglia tra Venezia e Roma, destinato solo ad acuirsi nelle prossime settimane, con il sindaco che in questa fase incassa il primo appoggio di peso, per Zaia la salvaguardia della Laguna è cosa per i veneziani. Se la diamo da gestire gli uffici di Roma sappiamo come va a finire, no? Quindi evitiamo romani, ma non perché ce l'abbiamo qui romani, evitiamo gli uffici centrali qui in Veneto e torniamo a gestirci come si gestiva una volta.